cari amici affidiamo la nostra giornata a maria oggi ricordiamo le apparizioni di fatima il testo della liturgia atti degli apostoli capitolo 18 versetti 1 8 descrive l'arrivo di paolo a corinto e la fondazione della comunità dei corinto la comunità a cui paolo ha indirizzato lettere importanti che nutrono ancora la nostra fede ascoltiamo il testo in quei giorni paolo lasciò a te ne si recò a corinto qui trovò un giudeo di nome aquila nativo del ponto arrivato poco prima dall'italia con la moglie priscilla in seguito all'ordine di claudio che allontanava da roma tutti i giudei paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere si stabilì in casa loro e lavorava di mestiere infatti erano fabbricanti di tende ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci quando sir e timoteo giunsero dalla macedonia paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola testimoniando davanti ai giudei che gesù è il cristo ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie egli scuotendosi le vesti disse il vostro sangue ricada sul vostro capo io sono innocente d'ora in poi me ne andrò dai pagani se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale di nome tizio giusto che venerava dio a cui abitazione era accanto alla sinagoga crispo capo della sinagoga credete nel signore insieme a tutta la sua famiglia e molti dei corinzi ascoltando paolo credevano e si facevano battezzare paolo percorre i 60 chilometri che descrivono il viaggio da atene a corinto corinto era una grandissima città aveva due porti uno sull'egeo uno sul mediterraneo era una città vivissima paolo arriva in questa grande città da solo e che cosa fa cerca evidentemente una casa anche un lavoro per vivere e la provvidenza noi parliamo di provvidenza non di caso lo porta nel quartiere dove abitavano gli ebrei dove c'erano quelli che facevano di mestiere i fabbricatori di tende mestiere che probabilmente indicava chi lavorava il grosso tessuto duro tessuto resistente chiamato cilicio che veniva appunto dalla cilicia dove paolo era nato forse anche lavoravano il cuoio ecco fabbricatori di tende e paolo era questo faceva questo di mestiere e cerca una bottega dove andare a lavorare e incontra un datore di lavoro che gli offre il lavoro e anche la casa questo datore di lavoro ha un nome preciso aquila si ricorda anche la moglie priscilla si dice che erano arrivati da roma in seguito all'ordine di claudio si pensa che si riferisca all'ordine di espulsione degli ebrei avvenuto nel 49 e quindi possiamo datare la permanenza di paolo a corinto verso gli anni 50 questo sarà anche poi confermato da un altro dato e cioè dalla menzione di un ufficiale romano gallione quindi negli anni 50 paolo arriva a corinto si stabilisce per motivi di lavoro a casa di aquila però non è un incontro che si ferma alle necessità lavorative e al bisogno di avere una casa paolo incontra in aquila un grande collaboratore non noi non sappiamo se lo ha convertito al cristianesimo o se già aquila fosse un giudeo cristiano di fatto aquila con la moglie priscilla diventeranno grandi collaboratori della missione di paolo nella lettera ai romani paolo scrivendo da corinto ai romani dice salutate prisca e aquila ecco la coppia che per me era ritornata a roma miei collaboratori in cristo gesù essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa e a loro io non soltanto io sono grato ma tutte le chiese del mondo pagano salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa dunque da quel momento in poi questa coppia bello non soltanto aquila ma aquila e priscilla diventeranno i collaboratori di paolo mettendo a rischio la loro vita nei viaggi che faranno per annunciare il vangelo che tornano a roma e li accolgono una comunità della loro casa paolo lavora ma non smette di evangelizzare lavora durante la settimana il sabato va nella sinagoga e il testo dice cercava di persuadere giudei e greci si rivolgeva anche ai pagani ma in primo luogo andava nella sinagoga per convincere i giudei e anche quei greci che timorati di dio cioè cercatori di dio andavano a pregare insieme con gli ebrei la strategia della missione cambia quando arrivano dalla macedonia i collaboratori sila e timoteo il testo dice che allora paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola questo perché perché o timoteo e sila lavorano e quindi permettono a paolo di essere libero per la predicazione che abbraccia adesso tutta la settimana oppure timoteo e sila hanno portato anche degli aiuti materiali da quelle comunità e questo consente a paolo di non dover lavorare tutta la settimana ma gli permette di avere il tempo della predicazione interessante ricordare che l'arrivo di timoteo che gli porta belle notizie delle comunità di tessalonica in particolare poi filippi spinge paolo a scrivere la prima lettera la lettera tessalonicesi e quindi qui proprio a corinto nell'anno 50 viene composto il primo testo del nuovo testamento che noi abbiamo la lettera ai tessalonicesi paolo dunque predica e chi predica qual è il contenuto della sua predicazione gesù è il cristo questo è il primo annuncio gesù è il cristo non una dottrina ma una persona che è il messia che salva dire cristo per i giudei voleva dire è colui che voi attendete che noi attendiamo e paolo si rivolge prima agli ebrei e narratore degli atti sottolinea con forza questa strategia missionaria indica che dio è fedele alle promesse e aveva promesso al popolo l'arrivo del messia ora paolo dice è giunto si chiama gesù purtroppo la risposta è negativa si opponevano lanciavano ingiurie e allora paolo scuote le vesti cioè dice con questo gesto dice appunto quello che esprimo con le parole il vostro sangue ricada sul vostro capo io sono innocente se voi non ascoltate la mia predicazione non è colpa mia aveva già detto ezechiele alla sentinella sta di stare in guardia e di avvisare quando arriva il nemico o il ladro poi ha fatto l'avviso la sentinella ha compiuto il suo dovere e così paolo nei confronti dei giudei afferma io vi ho avvisato vi ho portato il buon annuncio sta a voi accoglierlo o non accoglierlo nel momento in cui trova rifiuto paolo non si chiude non smette della missione ma se ne va ai pagani e la missione ai pagani trova riscontro si parla di tizio giusto un timorato di dio uno che venerava dio un cercatore di dio che abitava proprio vicino alla sinagoga viene toccato dalla predicazione di paolo forse l'ha sentito proprio in sinagoga e permette a paolo di trasferirsi allora a casa sua tizio giusto la ca lo accoglie a casa sua paolo cambia casa dalla casa di aquila passa alla casa di tizio giusto perché lì probabilmente ha uno spazio più ampio per accogliere i credenti che stanno crescendo di numero e si sottolinea anche la conversione di crispo capo della sinagoga dunque di un ebreo capo che probabilmente mette a a disposizione di paolo la sua influenza e quindi non è vero che tutti gli ebrei hanno detto di no crispo capo della sinagoga accoglie la fede in cristo il messia e con lui tutta la sua famiglia e si fanno battezzare dunque la predicazione ottiene dei risultati è interessante sottolineare un aspetto di questa missione e cioè lo sviluppo della comunità non è frutto di una organizzazione che paolo ha in mente certo segue una strategia si appoggia a una casa lavora predica vai sinagoga però il risultato è il diffondersi della missione frutto dello spirito santo che tocca il cuore di persone concrete che mettono a disposizione la loro persona al servizio del vangelo si portano dei nomi aquile priscila che accoglono paolo nel mondo del lavoro la prima evangelizzazione fatta nel lavoro durante il lavoro poi si parla di tizio giusto che mette a disposizione la sua casa poi si parla di crispo capo della sinagoga che crede lui e la sua famiglia bella ancora una volta la testimonianza della famiglia ecco la missione ha bisogno di persone concrete di nomi concreti che accolgono la porta dello spirito santo e con gioia si mettono a servito del vangelo